Che ne sa più Che ne sa più Che ne sa più Sei pazzo come notte Dobbiamo stare carmi, chiedo scappo Ma che cazzo stai a dire a provare a cortellarlo A cazzaro Ma che stai a dire Ma che cazzo ne sai, stai qua chiuso Porco di che sentenza Tu devi rite, io c'ho un 9 dipendenti No, 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 no Perché rita? Siccome tu sei un tipetto particolare Tu hai fatto due mani Tu hai fatto due mani, il tuo braccio tagliato Mi sono già 11 anni Il cappuccetto in testa durante... C'eravamo noi, tu stavi qua dentro l'acquario A fare delle bibbe con amici due Sai quel film che ti dicevo Non ho trovato per Cristo è finito Ho paura di uscire MESCI DE CASA E alla fine sono uscito Non sei di là, non puoi parlarci C'è, si può essere fascista Il 2020 re, il fascismo è caduto nel Nel 43 Ho paura Ma io penso che l'haide pensato solo quei quattro così A me la gente mi ferma per stare e mi dice Bravo, bravo MESCI DE CASA Posso partecipare a un video di Cicalone Rotetevi in gira con questi Vi fai vedere i burbazzar Alla fine sono uscito E ora ti dico anche una cosa perché io non sono un pusillanime Io sono un uomo Cicalone è venuto C'ha intimidito Cicalone è cattivo Ci vuole querelare Ci vuole fare degli strike Dobbiamo stare cari e che lo scappo O c'ha adicos qua fuori Tu quando passi qua Zitto e rispetto perché io spezzare in due Ho paura di uscire Eh Io faccio dei contenuti Loro Criticano I miei contenuti Io li faccio Loro li criticano Io parlo Delle cose mie Loro parlano di me Esci da casa Potrò partecipare a un video di Cicalone Ho paura Uno studio Che dovrebbe essere aperto al pubblico Dichiaro che è aperto al pubblico Perché faccio entrare persone In maniera continua Stando i visi Lì Facendo questo podcast Avete scelto un altro tipo di lavoro Un altro tipo di vita No Cicalone querelena la Lo so che la gente se lo guarda Qual è la reazione? Che quello che si vede ripreso Che ti reagisce Quanto è utile questa cosa? Zero Non hai risolto nulla Ah scusa sono venuto a casa tua Ah no è vero non è casa tua perché una casa non ce l'hai Basta idiozie Cercate un attimo di ragionare con il vostro cervello Non lo guardate L'unica soluzione che noi abbiamo oggi Per toglierci sta rottura delle scadre Non lo guardate Esce il titolo sul giornale Non lo comprate E' stato utilizzato in maniera strumentale Da te Za anni Oh La falsità è ciò che meglio fa The Zap, The Zap, The Zap, The Zap Copierà finché ce la farà The Zappo vi riconquisterà due videoface Guadagnerà sponsorizzando Cinesata Go, 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 go Lui è il maestro del metadetector Ha fatto tutto il mondo fesso Zaga, togli e panna, zaga Do Zap, The Zap, The Zap, The Zap La dignità quella non la troverà Do Zap, The Zap, The Zap, The Zap Pesco qua la nonna 5 dispositivi che ti permettono di telefonare e che ti permettono anche di scaricare app utili a ogni qualsivoglia opzione Ciao, ho qui tracelati nel profilattico Le specialità giapponesi ne voglio uno Tanto me ne bastano solo due per divertirmi Ho capito perché io vado a non rispondere a una chiamata che non mi interessa Ma l'ho inserito altro che all'interno di un indumento atto alla comodità sia nell'allenamento che in casa Però questo indumento è assai particolare Non ci possiamo addirittirlo Perché è un colore assai strambo Per i colori che di solito si trovano al Decathlon o comunque in alto Sì, mi piace tantissimo sentire i rumori 5 dispositivi che ti permettono di telefonare e che ti permettono anche di scaricare app utili a ogni qualsivoglia opzione Altra dimensione Con questo strumento che ho comprato in 5 unità 5 dispositivi Tutti in piedi per far star dorm comodo Fregan cazzo Il don sempre nel luxury Se no non si siete neanche Eh già, eh State in piedi, eh Eh sì, eh Sempre nel luxury Ma che stai a fa' Ricordate che i cani Stanno arrivati Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Non sappiamo come accendere le videocamere È un miracolo che siamo live L'abbiamo trovata lì E non si riesce proprio a spostare neanche fisicamente Ma che forza c'ha il Chitano? No, è tipo il martello di Thor C'è presente? L'unico degno di spostare la videocamera L'unico degno di spostare la videocamera è Chitano Perché ci sono degli gnomi che di notte fanno un delirio E Marco Chitano arriva qui verso le sette meno un quarto, sei e mezzo di mattina E risistema tutto Quindi noi abbiamo fatto qualcosa Devo dire Simone si è messo con la buona volontà Ed è riuscito a fare qualcosa Però più di questo non possiamo fare ragazzi Purtroppo Marco Ho pensato qual è tipo un angolo che non hanno mai visto i nostri ragazzi che ci seguono Tipo questa angolazione è quasi inedita se vogliamo Diciamo che qui c'è un citofono volendo Il famoso citofono Quindi siamo disposti a ricevere visite oggi Soltanto per oggi perché è inquadrato Quando non è inquadrato non c'è te non per caso Esatto anche perché c'è quella porta aperta Quindi è ufficialmente aperto al pubblico oggi Se uno si riesce a calare nell'androne salendo sopra l'edificio può entrare Il cancello è chiuso A meno che uno non faccia tipo quella X girl che diventa tipo liquida e passa le sbarre del cancello Uno molto secco Molto secco Molto parecchio secco Tipo uno Slenderman Pensavo che stai detto qualcosa di greve e chiudevamo la live No 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 Che pensavi scusa brutto pazzo Niente nulla Faccio una sfida Faccio una sfida addirittura In quale canzone è contenuto ciò? Brutto Vecchio pazzo Qualcosa non quadra Vabbè sicuramente Vecchio di Renato Zero Bravo Vabbè ma l'hai detto c'era il titolo dentro la frase Sì bravo Comunque regà Brutto basta Brutto sì E stai tagliato fuori pazzo Metal cutter Spalle al muro Vabbè Ridateci lo studio No ragazzi E' così E' così E' lo studio Non è che stiamo da un'altra parte No non è Per loro non è Se ci pensi per loro non è lo studio del Cerbero No vabbè No Stiamo da un'altra parte Certo perché come hai detto tu non hanno mai visto questa inquadratura E questa secondo me è la contrapposizione tra chi ha resistenza al nuovo e chi invece abbraccia il nuovo Vabbè regà è solo per questa live Ridateci No vabbè ma Ma soprattutto ripeto è anche la bellezza del cinema Tutto ciò Perché noi siamo nello stesso posto ma in realtà per tantissime persone non è lo stesso posto Pensateci Un po' un posto quantistico no C'è la parte che non si vede in questo momento non esiste per loro Per loro assolutamente Lo studio di Schrodinger Dicono che stanno questo è un obiettivo grandangolare In realtà la videocamera è vicinissima a noi Ma sembra lontana Questa è la sigaretta no Quindi ha un diametro molto ridotto Guardate se le avvicinate alla telecamera sembra grandissima Poi se la riallontani torna la sigaretta normale Ma specie perché è grandangolare sto facendo Sto scherzando L'effetto Qua si curva pure un po' forse C'è capito Ma infatti questa è la videocamera che solitamente usiamo io e Simone Quando ci facciamo i video all'uccello Esatto Così sembra più grosso Sì Facciamo con un sistema abbastanza studiato Di leve Di leve Di proporzioni Esatto C'è tutto lo studio Sa che impegno è mandato il picco Esatto Cioè la nostra passione per il cinema in realtà è nata solo per quello Ma più certo siete sul braccio del Davide Guarda la mano ulchesca È vero Gigantesca No così meno La metti sull'angolo proprio Tipo una mano gigante Tipo un supereroe Più grande della mia testa Sì Guarda sì Rispetto alla tua testa Sono tipo un gigante corazzato È normale Se ti avvicini al limite dell'inquadratura La tua testa si deformerà È come la mano Cioè essenzialmente Ma poi io è normale Perché quella è la curva del grandazzo Ma è normalissimo Vedo sia la mano sia la testa normale Ma che è normale Avvicinate più di là Ma se è tutto distorto Rimane uguale Ah dall'inquadratura Ma sembri un mostro deforme Non è l'inquadratura in quel caso Comunque ragazzi abbiamo molti contenuti Dobbiamo partire da una notizia effettivamente funerea Ovvero Marco Chitano Non è presente Perché ha contratto Il famosissimo Il celeberrimo Il famigerato Cos'era di dire Dengue Famigerato No Dengue Dengue proprio Sì Sì Ragazzi Perché lui ha fatto il tampone del test del covid Però è dengue Dengue Risulta positivo pure se è dengue Assolutamente dengue Valgono vent'ambe le malattie Certo Informazione C'è chiudono No è fattuale Essendo entrambe malattie inventate Cioè in quel coso che ti dice comunque che sei malato per darti il contentino Vale qualsiasi cosa Dengue Bingu Cioè puoi chiamarlo come vuoi Ciao Youtube Esatto Immagino da chi sono state inventate quindi Eh da loro Da loro Ok Allora Simone se puoi mettere un attimo NDI Certo Facciamo subito vedere delle cose molto molto gravi Allora Ma che è? Ah ok Allora intanto Madonna Donna mia Tipo il creepy Qua mi devo impegnare Abbiamo un ottimo post di un grandissimo giornale che leggiamo molto spesso Una testata online registrata ovvero Dilling Air News Pericolo pandemia Non basta la guerra Ora arriva la dengue Come la dengue? La dengue mi è diventata Il dengue Il dengue Tipo il covid Suona male la dengue Eh sì pure la covid Perché è l'influenza covid La covid Però cioè ormai ci suona strano no? Oddio 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 Marco Chitano Come? Moderatore Ma poi ma perché moderatore Marco Chitano? Una zanzara mi ha inseguito per un'ora Alla fine mi ha posseduto E mi ha attaccato il dengue Si è scopato Che cosa Lo vedi? Lo vedi? Eh regà Confermato pure lui Dopo l'allarme Paco Me lo puoi girare poco poco Un po' più Lo schermo Grazie No Voglio farlo vedere in camera Ok No così ce la faccio I miei occhi da elfo ci vedono Organizzazione Panamericana della Sanità Che prevede nel 2024 La peggiore Epidemia Della storia moderna Cioè quindi implicano già dall'inizio Che è peggio del covid Certo Peggiore epidemia Della storia moderna Io penso che noi Lo stamattina in Italia Da prima di tutti Che arriva il dengue Comunque Sì Sì Prima ancora che arrivasse in Italia Per il meme Ma davvero È fattuale Sì Ma per il meme Che era in Brasile No? Però in Italia Non c'erano stati casi Guardate che Ma arriva pure qua C'erano Il primo caso A Busto Arsizio Però da mo' che ne avevamo parlato A mezzogiorno di fuoco Per continuare Brodino Ci avevamo preso Sì Sì Ci avevamo preso Marco Fenomeno è riuscito a piasser il covid In un momento in cui c'er dengue È gravoroso Sì però Non è più Non è più cool adesso Cioè se uno dice Sor covid Vabbè sì Sei superato No c'è st'er dengue No? Forse l'abbiamo diffuso noi Per auto darci ragione Siamo andati tipo Alla ricerca di zanzare in Brasile E l'abbiamo liberato Le più pericolose Comunque è intervenuto Il mitico Bossetto Bossetti Libero Assolutamente Bassetti Ovviamente Bassetti Uno dei grandissimi virologi Che durante la pandemia Insomma Ma è questo qui che vedo nel luogo? È lui È il mitico Innocente Mi sembra quello dei tiktok Qualcuno conoscerà Giggetto fisichetto È uguale o? Un po' c'è via Porca Poi cerchiamolo Cerchiamolo perché Un po' c'è via Ma identico porca troia Un po' c'è via Comunque Matteo Bossetti Libero ovviamente No comunque il virologo Che anche durante la pandemia Abbiamo ascoltato tantissimo Uno di quei ragazzotti Che sono anche diventati star In quel periodo Cosa dice però il buon giggetto fisichetto? Esatto Ormai è lui C'è pure l'abbrotto Scusate ma è importantissimo No no ma ci mancherebbe altro ragazzi Sì 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 vedi un po' se Addirittura una canzone Cioè Ha fatto una canzone bellissima Ma sentiamola ragazzi No è stupenda Let's go Vai Grandi Airbnb Ehm sì C'è il video sì No 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 Vabbè ma ci sarà col video C'è pure col video Basta che vai sul suo Sul suo canale Ma poi è una cosa orribile Così dai Vai su Popolari Sicuramente è più popolare Ecco no Stanno là insieme Giù Ma cosa fa su TikTok Questo ragazzo? Ehm Tutto tutto da destra Sto mangiando kiwi Sto godendo Eccolo E' buono il kiwi Ma tu li vuoi? Sì sì Ammira per mangiare Perché senti il suo pezzo Senti il suo pezzo Sento il suo pezzo Stai sempre a guardarmi Fisso che succede Ma tu da giù Va te ma Eccolo giggetto Guardalo Guarda che fa questo Fa delle mosse Sei marcio dentro Sei marcio dentro Sei marcio dentro Ah ok Ma come è successa quella cosa? Avete visto? Ma non l'hai fatto tu No perché è bucato No vabbè Ma questa è una cosa Proprio assurda Veramente No Pensavo l'avessi fatto tu In una frazione di secondo Perché evidentemente Ci sarà l'effetto green screen Da chissà quanto tempo Bellissimo Lascialo Dopo una voglio rivedere Quella scena Eccolo eh La luce è blu E' sul blu Vedi dietro c'è Bassetti Chi ti conosce Chi ti conosce Chi ti conosce Cioè confronto Ecco la tavola Ho pietto Vai Ho già 50 anni Eh sì Ci monte più Perché questa scena Due o tre anni fa Ma tu che ne pensi Cioè comunque A me me da Cioè mi sembra Un giuggiolone Un cucciolone Simpatico Ma è una persona buonissima Eh lo è vero? Sì sì Io lo vedo su tiktok Cioè vive con la madre Gli vuole bene Nascita bene Sa bra Cioè è una brava persona C'è un cicetto fisichetto Quindi vuole solo Dare good vibes Sì Si vuole portare Un sorriso Sulla bocca di chi guarda C'è sta Marra a 50 anni Che ne pensi? Magari sì Dove lo firmavo? Fai balletti Mi parete che poi Durante diciamo Le varie discussioni in chat A me sembra omosessuale Cioè vabbè Questa signora qua Che vedi Col maglione nero Che è fra Fra gigetto e tre È la mamma Che sta Fra gigetto e tre Ma bella è la mamma Ah Che carino No è una cosa bella Comunque Che partecipa No ma infatti mi sembra un bel king Lui eh Devo essere sincero No è un kingone Sì sì È un bel kingone Hai sentito? Ma che è? Che è sto bordello? Vabbè perché C'abbiamo la porta aperta Perfetto Ok Siamo contenti per te Comunque dai Bello Hai trovato un lavoro Sì bello Comunque con Sì sì Comunque io Mo sto curioso di sapere Che ci racconta sto ragazzotto Però qua non lo vedo Simonsk Ok Gigetto Quello è virologo Mo Eh allora Cosa Cosa dice L'esperto Matteo Bassetti È intervenuto Matteo Bassetti Che nei giorni scorsi Ha visitato in ospedale Un argentino Trentenne Con il virus Dengue C'è il rischio Di una seconda pandemia Leggi l'articolo Completo Stavo cliccando io Ma non posso No grazie Non lo leggeremo? Beh Sì da Dillinger Guarda Non su Dillinger Però seppena cosa No no Se vai su Google E scrivi Bassetti Dengue Ok Sicuramente Troveremo le sue Incredibili dichiarazioni Fondamentali per l'umanità Perché comunque Bassetti È una persona Con una laurea È un virologo È un professore È un professorone Virologo Libero Libero Che ha studiato E quindi le cose che dice Noi dobbiamo pendere Dalle sue labbra In quanto ha un titolo di studio Esatto E noi no Giusto? Esatto Quelle labbra Alla gigetto che c'ha Io pendo volentieri Il cosiddetto principio di autorità Esatto Vengo in Italia Ecco Mò ve lo faccio vedere Bassetti Agire subito Dice Agire subito L'America prevede Quotidiano nazionale Apro Top Mi piace Mi piace Mi piace La banda Bassetti Esatto Vediamo Scherminder Ce sta Ce sta Vediamo un po' Quotidiano nazionale Sul quotidiano nazionale Sapete chi c'è scrive Mi sa? La mitica Totolo Ah La nostra mitica Ciao ragazzi Vengo in Italia Bassetti Agire subito L'America prevede La peggiore epidemia Della storia Se lo dice l'America Poi Bassetti Parla a nome dell'America Il primario Del San Martino Di Genova Nei giorni scorsi Ha trattato il caso Di un trentenne argentino Come si trasmette Il virus E quali sono i sintomi Che è sto schemino? Mi deve mettere paura? Allora lo guardo subito Come la West Nile Veicolata dalla zanzara comune E la città Facciamoci venire tutti l'ansia Ah ma c'è sta ancora Ah guardi È bugato È bellissimo No ve lo levo Beh sì In questo caso sì Ancora questa cazzata È il principio di autorità Era appunto Una battuta Quella di Simone Proprio su questo Grazie Michelangelo Eh vabbè Lo spiego solo perché Sono schemi seri Caldo e umidità Sono un mix ideale Per il nemico Più temuto dell'estate La zanzara Oltre che fastidiose Le zanzare possono essere Vettori di diverse malattie Pericolose per l'uomo Diffuse soprattutto Nelle zone tropicali Come malaria Dengue Zika E altri ancora Negli ultimi Si parlo a dengue Vabbè però per noi è dengue Dengue Per noi è erdengue A Roma Erdengue Dall'altro È scritto malissimo È letto malissimo Questo voice over Perché c'è zone tropicali Sono malattie Diffuse soprattutto Nelle zone tropicali Come malaria Dengue Pare che è zone Malaria Dengue È proprio orribile Sono sbagliato Tipo i L'ultimi dieci anni Anche in Italia Hanno fatto la loro comparsa Alcune forme di febbre virale Come la West Nile Veicolata dalla zanzara comune E la cicungunia Trasmessa Cioè sta A zanzara comune Si chiama Culex Ah Culex Le zanzare sono tutte Culex Perché ha gli aculei Ah vedi Culex pipia Culex E comunque se è vero Che hai dieci milioni di punti rana Manda un'email A cerbero Ineragliabile Chioccio A gmail.com E potrai venire a giocare qui Oppure a fare un tatuaggio Nei giorni in cui hai portato al pubblico Ti da avere ammarra Gratis Beh ovvio La responsabilità è declinata Ti faccio diventare come gigietto fisichetto Tutto viene Perché Bigene scrive Matt Flea ti amo Se n'è andato? Perché là abbiamo uno spumante da Da stappare Eccoci ragazzi Let's go Stappo Prima confermiamo che sei andato per sé Esatto Ma proprio dal piano dimensionale Come la West Nile Veicolata dalla zanzara comune E la cicungunya Trasmessa dalla zanzara tigre Queste malattie Non vanno sottovalutate E qualche piccolo accorgimento È sufficiente per contrastare Il proliferare delle zanzare Avete vinto voi Dice Matt Flicosa Ma scherziamo Matt Vogliamo un bene dell'anima È una burla tra amici E ridurre così Il rischio di trasmissione di malattie Bello con la canula Eliminare tutti i contenitori Che possono accumulare acqua Come i secchi In orti e giardini O ricordarsi Di tenerli sempre capovolti Evitare Ma chi c'ha l'orto? Questo a me non mi interessa Mi consiglio Però io c'ho l'arberi Tu e te L'arberi da frutta Ce l'ho infatti Però te sei un arricchito Vero Vero Però mi interessa Cioè vorrei non morire Sì ma questo Non so consigli Su come difendersi dal dengue No So come fa venire Il zanzare Nel giardino Vabbè perché le zanzare Portano il dengue Cioè però è un articolo Proprio Si clickbait Ah comunque grazie Lo trovi in cento cose Del giardinaggio Sta roba Vabbè ho capito Sì però buttalo via Formazione Grazie Comunque grazie Raga che siamo Risaliti a 7000 Let's go Let's go Chi è Tony? King Tony Barking Ambe Tony Sì Per Montana Di tenerli sempre capovolti Evitare il ristagno di acqua Nei sottovasi Oppure svuotarli Almeno una volta La settimana Così le uova di zanzara Non si sviluppano E le larve Vengono eliminate Coprire con zanzariere O teli di plastica Vasche e bidoni Per impedire alle femmine Ce ne posso perdere tutto E poi ci spendi ore Per fare sti lavori E comunque arrivano Le zanzare Mentre fai sti lavori Te pungono mille zanzare Bravo che vedo Esatto Perché stai lì Capito A rischio Comunque mi piace questo momento Pollice verde Del cerbero Vi dico una cosa Clamorosa Che qua a quanto pare Non ci sono arrivati Allora Due rimedi che conosco io Contro il dengue clamorosi Uno è la citronella Top Tipo tu Sono delle candele La citronella Tu le accendi Tipo nei vostri di casa E poi ti difendi dal dengue E un altro assurdo Che è per uso topico Quindi sulla pelle Direttamente si applica Un unguento Chiamato autan Top Eppure quello Fa da schermo Per il dengue Top Vero Sai che ci sta Ci sta pure un'altra cosa Che è una cosa Proprio fisica Proprio fatta di materia La dengueriera Bella E tu la metti Sulle finestre C'è un amico mio Tipo una specie di retina Sì Bravo Porca voglia La dengueriera Deporre le uova Mettere Che è oh No Così Basta Si è rifiutato E vabbè E' andata così E' andata così Dai leggiamo A sto punto Dai Dopo l'allarme Pajo Organizzatore panamericana Della sanità Che prevede nel 2024 La peggiore epidemia Della storia moderna Mi raccomando Ficcatevelo in testa Facciamo il punto Della situazione in Italia Con Matteo Bassetti Infettivologo Primario del San Martino Di Genova Che nei giorni scorsi Ha visitato in ospedale Un argentino trentenne Con il virus Possiamo dire una cosa A parte tutto Noi adesso Uscendo dalle battute Abbiamo spesso sollevato La problematicità Di questi titoli Sensazionalistici E di queste anche Etichette Volte a spaventare Le persone Ma un conto è Appunto Dare delle informazioni Per carità Il dengue può diventare Effettivamente un problema Di un certo spessore Non bisogna sottovalutarlo Poi noi ci scherziamo Perché è ovvio Che sia così Però Adesso Dare già la definizione Il peggio La peggiore epidemia Della storia moderna Che abbiamo letto Su varie testate Mica solo Il quotidiano nazionale Col virologo Zelante Che già abbiamo ascoltato Per anni In pandemia Tornato Lì Col suo bel faccino No Braccia concerte Col principio Dall'autorità Cioè ragazzi Veramente Ma almeno Aspettiamo un attimo Prima di dare queste definizioni O sbaglio io Non sbaglite Perché Cioè Io mi ricordo poi pure Bassetti nello specifico Amico dei Salvini Amico delle trasmissioni Che promulgavano Comunque questa cosa Di paura e di ansia Quindi c'è Ok che mi dici Che è il primario Del San Martino Infettivologo Però dobbiamo pure capire Di chi stiamo parlando E contestualizzare Diciamo che lui Mi ricordo perché L'hai scritto la sua intervista Lui stesso disse Di essersi abbastanza Innamorato Di queste luci Della ribalta Ah l'ha ammesso Per sua stessa ammissione Perché i virologi Sono diventati Da una categoria Un po' Cioè nel senso Che non c'era nulla De più o de meno De altri medici Che magari ogni tanto Andavano a parlare in tv Capito Che so C'è stava la cosa del momento C'è l'ortopedico Ospita uno mattina E ci parla De quando c'è il problema Ancertutto di diventare Delle superstar Esatto E quindi uno potrebbe pure Pensare Mo sto tengo E me lo accaparro io Inizio io a parlarne Prima di tutti Così vado io Nelle trasmissioni Capito Fai interviste su interviste Diventi famoso Mi ricordo pure Dice bene Palle uomo Sono andati virali Sono andati virali Capito Mi ricordo pure Posti Instagram Posti Instagram Di Bassetti Come di altri virologi Che si facevano I fighetti Capito Con la casacca Cioè degli influencer Fondamentalmente E va bene tutto Per carità Però il vero compito Di anche un divulgatore Perché in queste vesti Poi diventano divulgatori Scientifici Di un divulgatore Dovrebbe essere quello Secondo me Non di perseguire Interessi Di ego O interessi economici O di fama Ma ovviamente Di dare strumenti A chi come noi Non ne ha Però purtroppo La cosa che mi spaventa Cadendo leggermente Più dall'altra parte Un po' più Sul complottismo Al di là della singola persona Che vuole prendersi Magari un po' De luce della ribalta E parlarne per primo E anche Dov'è l'interesse Appunto Di organizzazioni più grandi Appunto Delle testate giornalistiche Dell'organizzazione Mondiale della sanità Quando cominciano a parlarne Ma già vedo che cominciano Comunque A uscire tante informazioni Su sto dengue Qual è l'obiettivo Cioè tenere la popolazione Un po' più Sottobotta Come è successo Con il covid Perché diventiamo tutti Un po' più controllabili Quando c'è paura generale Magari Venderci di nuovi vaccini Insomma Comunque somministrare Non venderci Perché erano gratuiti Però somministrarci I nuovi vaccini Perché poi c'è sempre Qualcuno che ci guadagna Hai visto che Alcune aziende Anche durante il covid Che ci hanno guadagnato Insomma Le case produttrici Le vaccini Che hanno fornite Ai vari stati A vari governi Ci hanno guadagnato Tutte le aziende Che producevano mascherine Sì E tamponi vari Una nuova pandemia È un'opportunità Di guadagno Per tante persone Come la guerra Ad esempio Sì anche la guerra Infatti ci sono persone Che spingono Affinché accadano Scenari di guerra Qui mi sembra Che ci siano persone Che spingano Per mettere paura Intanto Perché la paura Rende meno lucidi E ti fa cercare Una soluzione In questo caso Pare quasi Che già te la danno Ma in principio Che è l'infettivologo Poi vende Affidati Vende Cioè Tu clicchi Quando leggi il titolino Ti fa essere pulsivo La paura Il nuovo covid Capito L'epidemia più devastante Dei nostri tempi Il virologo Ha detto che Temete perché Si prevede che Io sarei curioso Di vedere Il prima e il dopo Di questi articoli Rispetto All'incidenza Sui prezzi Di che ne so Il prezzo medio Di una zanzariera O di Insomma Repellenti Per zanzari Tipo Autan Secondo me Dopo questo articolo Già l'autan Mediamente costerà Un euro in più Tipo In farmacia O al supermercato Quando comincerà Scarsi Margine Per aumentare Il prezzo Comunque Ho letto Un messaggio Di Engie Che dice Beh credo Che le perdite Siano superiori Ai miseri profitti Che possono fare Alcuni individui Ma infatti Engie Non è che uno Crea il laboratorio Il dengue O il covid Nonostante alcune teorie Appositamente Per vendere i giornali Non è quello il punto Il punto è che Una cosa esiste Cioè Uno ne prende atto Il modo in cui ne parli E come lavori Attorno a quel problema Cioè Il giornalista X Del giornale X Il titolista Giustamente dice Sto dengue esiste Sto covid esiste Cavalchiamolo Infatti Stanno diecimila modi diversi Per parlarne Quello del terrore Che è stato utilizzato Per il covid Secondo me Non era l'unico possibile C'erano tante altre alternative Comunicative Capisco che Magari il terrore Spesso è l'unico modo Anche per Tenere un po' La popolazione In riga Anche dei tagli Comunicativi Quella era una situazione Straordinaria Ripeto Adesso è pure facile Giudicare Insomma Posteriori Quindi Più che altro Io dico almeno Cioè Abbiamo imparato Qualcosina Cioè Ce siamo passati È stato un dramma Gigantesco Generazionale È stata una Delle cose Più rilevanti Nella storia moderna Cerchiamo almeno Di portarci Qualcosa Guarda Ti faccio un esempio Semplicemente comunicativo Rispetto a questo articolo qua Pensate se fosse È stato scritto Invece che Si prevede una pandemia La più grande pandemia Della storia Mai vista Dall'umanità Se avessero detto Mai invece Si prevede comunque Una pandemia grave Anche paragonabile A quella appena vissuta Del covid Hai detto la stessa cosa Praticamente Però con una Fai terrorismo La peggiore della storia Un'altra Gli stai dire State molto attenti Perché sarà grave Ma è il solito discorso Che facciamo Sui toni Ragazzi Giornalistici Comunque Vabbè Io andrei avanti Tanto insomma Penso che abbiamo esaurito Abbastanza bene L'argomento Poi vedremo Nei prossimi mesi L'unica cosa Quello specificare Colletto qui Lui dice Abbiamo fatto Da apripista A livello europeo Rimarca Bassetti No Siamo stati noi A fare da apripista Per fare informazione Sul dengue A livello europeo Ancora prima di febbraio Giusto Ok Questo va specificato Assolutamente sì Quindi Invitateci Nelle trasmissioni Come esperti Dengue Dengue Tutti i camici Sarebbe tipo Un esperimento sociale Stupendo Stile Sasha Baron Cohen Cioè Ci mettiamo noi Col camice Tutte stronzate Però secondo me Qualcuno ci darebbe ragione Ovviamente Tipo No Perché comunque Molto importante Per prevenire il dengue Ripetere davanti allo specchio Dopo aver bevuto Un goccio di olio evo Dengue 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 Tre volte Perché comunque Il suono emesso Dalle corde vocali Con questa tonalità Tiene le zanzare Brasiliane Lontane E poi E' facilissimo Andare in una di queste tribune Tipo Rai O la 7 Basta che ti alzi in piedi E tu ti fai Ma le zanzariere Sono un diritto di tutti O no O no Esatto E poi vabbè Cassicone Tipo Perché ci sono delle madri Che portano i bambini a scuola E non hanno l'autan Esatto Bisognerebbe fornirle Sin dagli asili E come gli piace l'autan Mischiamo tutto No magari Esatto Oggi funziona il McDavid Esatto Infatti questa è una soluzione perfetta Devo essere costretto Esatto Simo se mi vuoi chiudere questo Andiamo al prossimo Link Però questo Me ne hai messo Ah questo Sì 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 Chi produce gli zampironi Esatto Il famoso autan Della scuola Tipo i distributori Di preservativi Invece i distributori Di autan No tipo Alle superiori Ecco ragazzi Lui ci spiegherà Come uscire Dalla crisi dengue Scusami Posso chiederti Che cosa stai ascoltando Guarda c'è una chiamata Di lavoro sotto Perdonami Ah scusi Lui 50 Un'ora 150 e mezz'ora Vabbè Vabbè Ho capito Dov'è Dov'è la parte Cioè dove era la gag In realtà era una Una prostituta Si stava tipo accordando Sul prezzo della prostituta Mentre il ragazzo Gli ha detto Invece che era una chiamata Però è una chiamata Comunque del lavoro Perché il lavoro è di lei Esatto Quindi vabbè Funziona Fa ride Ha sia senso logico Il lavoro in ritardo Che senso Ah di lei Madonna mia Ragazzi Fa caldissimo oggi Ma grazie Hai climatizzato Grande Non si sente lui Eh cazzo Ha messo troppo alta La musica Sta bozza Pensavo L'avessero fatto Quell'intelligenza artificiale Invece l'ha proprio Ricantata lui No No Una cover Ok Riprova Chi Kung Mi sono ritrovato Anche io A casa Al pianoforte A fare Chris Simbo Trondindà Trondindà L'hai fatta Slow O l'hai fatta normale No che ce l'avevo dentro E qui dovevo suonarla Ma come devo suonarla Lenta Tipo quella creepy Oppure quella normale Lenta 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 e solenne Tipo questa inquadratura Sì Ah ragazzi Dissociamo Comunque è stato un personaggio storico Non è che Si può far vedere Non è bannabile A parte Davide Il busto si può far vedere Ma non si chiama Davide Si chiama David Va bene E più Gli hanno dato Invece che le vai Gli hanno aggiunto Sembra un bel busto E lo permette da capo Certo Ma vi ricordate Quando Riccardo Chiamava Me David E Rubino Davide Si Oh sta venire Pela Dai Pela Urge una discussione Urge Urge Va bene Pela Vieni vieni Ragazzi Aggiungo A trovare Davide Puoi alzare un pochetto Che è bassissimo Da Da qua Si Chirurgicamente Ciao belli Che facciamo La direzione Eh Stasi NDI Mac Mini Eh si Che sorriso creepy C'ha questo Questo battiere Guarda Guarda Che facciamo Oddio tutto nero Due a due Confezionati No no Confezionate Perché sono le fette Biscottate Ragazzi A trovare Davide Ciao belli Che facciamo Quanto lo mantiene Nesta sorriso I capelli Ti fanno una boccia Perché ormai Perfetto E poi La barba Proprio una bella Pulita Sfumata Ok Perfetto Va bene Ci penso io Va bene Vai Che espressione devi avere Quando ti fanno la barba Ma capire 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 Ah La barba dove viene Puglia Bello però Bello pulito Bello così fresco Abbiamo finito Com'è andata Benissimo Direi un lavoro perfetto Ti sei rilassato Sì sì Una paola Perfetto Dai grazie a tutti Ciao Top Non ho capito qual era Mi è piaciuto Finisce qui Non dice manco il nome Della barberia Eccolo Direttamente caricato È della barberia Ok Bello fresco Bello fresco Collab Te devi tagliare i capelli E fai stai Spero abbiano pagato A Rubino Ragazzi guardate Ci sono delle tette Ti devo un tiktok intero Per pentaglio Per esempio Iper svalutato A livello di valore economico E chi lo chiederemo a Rubino Ah l'hanno pagato Ragazzi ci sono delle tette Non so se avete notato Guardate le tette Guarda come è ballonzo Guarda come gli piace E come gli piace Chi è? Indominate un po' Simone Cosa sarà questo contenuto? Ah un fake podcast ovviamente Ovviamente Tipa diciamo avvenente Che fa domande a un tipo Non avvenente Microfono standard mondiale Sì Tra l'altro ragazzi A proposito di microfoni Alla fine di questa live Compreremo Dell'attrezzatura Fresca di zecca Quindi fate molte sub Esatto Ci sarà un upgrade Stiamo pensando di Upgradare lo studio Sì Di dare un po' Un cambiamento Con cose che non avete mai visto prima Ma questo è vero Non i vostri soliti Not your average Come si può dire? Power up Esatto Sì Ma che cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo Con Pela In chat? Cosa sta succedendo? Dice che vuole venire qua Perché c'è una discussione Mi ha detto tipo Moderatori Poi sentiamoci Dobbiamo parlare Moderatori di Twitch Mode di Twitch Se siete in chat Vi parlerò Ma che cazzo sta con me Di Twitch proprio Non di Non dei nostri Pela Che cosa succede? Che t'hanno fatto Sti ragazzi? Non capisco Ma noi abbiamo Dei contatti diretti Proprio dello staff Di Twitch Se a Pela Gli servono Sì Ma che ha fatto? A che ne so Pela 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 La cifra più folle Spesa in una giornata Allora Partiamo dal presupposto Che non mi piace parlare Di spese personali Però ti racconto Cosa è successo Settimana scorsa Mi sveglio Con una multa Da 200 euro Vado a pranzo Con una tipa Conosciuta la sera prima E parto un'altra In 300 euro Il volume è altissimo Scusate Eh perché l'avevamo alzato Una tipa Conosciuta la sera prima Top 3 cose mai successe Proprio E' calma E' calma E' calma Vabbè Qua ho dato l'autorizzazione Sì mi dica Come? Non ho capito Eh non è Dai va al serio Ti ho sentito? Eh? Oddio Ma cosa ci dovrà Ci dovrà dire il Pela? Sì Sì Sarà furioso Ma che cazzo è successo Ragazzi Veramente Ma sono curioso Io non ho furioso Oggi porta a tavola Una novità Due a due Confezionate Sono le fette biscottate Grissimbon 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 Oggi porta a tavola Una novità Una novità Leggi Leggi Aspetta Novità Si segga Che è successo? Leggi Leggi Ma devo leggere al microfono? No Vabbè Cioè tu sei venuto qua Per questa notizia Incredibile Aspetta Prima leggila Mettite qua Sediti un attimo Oppure Eh no Ma prendi quello più piccolo Magari Ragazzi Buonasera Ah ci sta Parli al mic Allora Qui c'è un messaggio Che sicuramente Non si vede Vabbè Comunque c'è scritto Fanno insomma Una festa In locale A Frosinone Festa post pasqua Pronta al devasto Vabbè Eh E fino a qua Costo Pre vendita 15 euro Costo tavolo 25 E poi Guarda in mezzo Che c'è scritto Ok Eh qua Special guest Rubino No mi faceva ridere Però allora Adesso io sono qua Special guest Una cosa veloce Aspetta che te vi Un altro mic Sta No allora Una cosa velocissima Perché devo andare via Allora Tanto Io penso che I mod di twitch C'è un attimo Mic Gianna Ok I mod di twitch Penso stanno guardando Questa live No Eh io Non lo so Pela Noi c'havamo Il verificato No Ah è vero Ve l'hanno levato The Sakers Strettino basso Podcast E perché ci avete tolto Il verificato Tienevano pure Penattività Tieni Tieni Eh ho capito Ma così non si fa Eh un bel po' Un po' E allora che cazzo Pela Cioè sei venuto qua Per rompe i coglioni Per favore Perché ce l'avete tolta Perché non fate Ho scritto un chat E non c'havamo più Il verificato Ma perché non fate nulla Eh vabbè E vabbè che Non stai male da nanno Però aspetta La partner Nel palle uomo Lo sa bene Lifetime Si dà Anche per Di default A realtà Che c'hanno Canali Enormi Altrove Tipo se è un grosso TikToker Sì sì Se c'hai un grosso Nel YouTube Cioè se The Suckers Non gliela dai Porco due Vabbè Comunque Niente Quindi Special guest Rubino Andate a staserata A Frosinone Ma abbiamo fatto Ci stanno i carovane Ma scusa un attimo No però scusa C'è una partner Dottor Commodore Porco due Che non mi hai fatto Una stream Però è meglio Come diventare senatore Allora Il discorso è questo Pela Tu giustamente Sei venuto qua Per questa informazione Molto rilevante Però ho varie domande Uno Come sei venuto a conoscenza Di tale informazione Io ho scritto Chat a voi No Sulla roba di Rubino Ah ma non viato Ma non viato Vabbè Ma tu Cioè te sei tagliato Lo sito Semplicemente Vedendo scritto Special guest Rubino Perché guarda Ma poi c'è questa La locandina Che fa ridere Perché c'è pure Vedi La cosa Della spunta No Le due spunte Ma poi guarda Guarda sopra Che c'è scritto Eh Ah via Vi Aldo Moro Vabbè Cavoroso Vabbè Classicone E niente Ma ho fatto io Special guest Rubino Rubino è il nostro Rubino Potrebbe pure essere No è lui È lui Perché poi ho visto Le storie sue Non è Rubino Sì Lo stanno a scrivere pure in chat Vabbè Raga io È Rubino di Frosinone La versione Domani Domani Spacca ciao Domani L'hai scaricata A giornamenti Decken Dillo in camera Lo faccio oggi Scaricalo perché Se no non possiamo giocare Vabbè Di in camera Cosa ci sarà domani 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 Dillo Visto Visto Sto tipo Tre anni Che non gioco a Tekken E spaccava il culo Non lo so Sono tentato Ce starebbe Vieni Comunque un'altra cosa Io sto ancora Aspetta a Saitonia Che fa tutto il figo So forte a Tekken Vieni che ti spacco Ciao Il problema fu il nostro L'altra volta Che l'abbiamo invitato Ma non si eravamo resi conto Che era sabato Da bravi Colpa nostra È aperto sopra Ok Puoi spengermi Faccio tipo Freezer Che non si era mai allenato Mi alleno per un giorno Vivo porco Dio Però non mi va De comprammelo C'ho soltanto la demo Quindi posso usare Tipo tre personaggi Che non posso Saxiaio Che è la mia No Mi ho ascoltato Dele Gistrar No Vabbè È andata così Mi schiede quanto costa Un chat Regà Tekken Costa più di mille euro Frizio Ma te stasera vieni Al Pigneto Ma perché Dov'hai con ste scarpe Che scarpe c'aveva Vabbè Le scarpe normalissime Che scarpe c'aveva Normale 70 euro Allora Tornando a noi Stavamo A vedere la tettona Sì Troppo più folle Spesa in una giornata Allora Sì però non abbiamo capito Presupposto che non mi piace Parlare di spese personali Però ti racconto Cosa è successo settimana Però ne parlerò Mi sveglio Con una multa Da 200 euro Vado a pranzo Con una tipa Conosciuta la sera prima E parto Un'altra di 300 euro E poi che fai Non le compri Le ciabattine Hermes Alla Fashion Avenue Del Dubai Mall Madonna che cringe Ragazzi Non so voi Ma ho tipo una specie di Sensazione serpentata Dietro la schiena Ma che cazzo Ma pure il tono Ma hai sentito il tono Ma che fai Non gliela compri La borsa Hermes Come se fosse scontato Voglio fare la prova Con Simone Che fai Non le compri Le ciabattine Hermes Alla Fashion Avenue No testa di cazzo Questa è l'unica risposta Ovviamente ripeto Tre cose mai successe Cioè non l'ha mai fatto Non ha mai toccato Una donna Quest'uomo Però Ha detto che ci ha uscito Non è che l'ha toccata Ah questo è vero È uscito e gli ha pagato 300 euro di cena Secondo me Più è spiegiavate Come si chiamano questi Nella roba della Red Pill Come si chiamano questi qua I Non lo so Quella figura Quelli Come so Aspetta Non ho capito Cosa vuoi dire Sigma no No L'uomo che Che sta lì Per provvedere Economicamente Alla donna Dai Porco due Coglioni Vabbè Ho capito No Money Slave È un'altra roba È provider Ah è provider Ok Da buon provider È uscito E gli ha pagato 300 euro di cena Secondo me è credibile Quello è provvedere Non ha detto che se l'è sifonata È vero Questo è vero Ha provveduto Anzi vi dirò di più ragazzi Fate il contrario Cioè fatevi offrire tutto Secondo me è proprio uno Che sente che non può Fa sta cosa Capito Si inventa mille storie In cui è il più grande No Il più grande sugar daddy Della storia Però cioè Io penso Io lo vedo E non riesco a Capito A dire Impartiscimi la tua conoscenza Come discorso prima Del papi Non mi sembra una persona Che può spiegarmi Proprio niente Già da un secondo Che lo vedo Il discorso del papi Che loro non conoscono Ma A breve Conosceranno molto bene Ma a breve Capirete Enrico Papi ovviamente Enrico Ma avete visto Che Che foto Che rile sta a fare Enrico Papi Allora Amico mio Amico mio Abbiamo messo L'abbiamo linkato Abbiamo messo nell'intro Credo sia Guarda Anche Nel Descop Eccolo Sempre coi piedini Allora Allora Enrico Papi Enrico Papi È un profilo Enrico Papi Official da seguire Ufficialmente In questo momento Allora Fotina Occhialetto Piedino Enrico Papi Importante Con tanti punti esclamativi Proseguo con foto così Cioè Noi sulla Sulla scia di questo Con Marta L'altro weekend Ci siamo andati a infognare Nel guardare Tutte le cose che ha postato Negli ultimi mesi Pure io e Simone È tipo un buco nero Raga Questa foto è andata virale Proprio perché La caption Invita A vedere il profilo Bravo E quindi Un sacco di gente Si è Si è fatta proprio Pure io Mi sono spizzato Il profilo È assurdo Perché io e Simone Io e Simone E mo ce lo stai confermando Pure te Abbiamo fatto la stessa Identica cosa Tutti Cioè ci siamo detti Ma perché hai visto il profilo Proprio Perché dice Altre foto Perché quindi dice Ma che Ma quindi Io ho pensato Quindi vuol dire Che ce ne stanno Tante altre Che magari è un andazzo Che ha preso Fammi un po' vedere Esatto Che sta giusto Sempre il capello Compulsivamente È clamoroso Allora Come al solito Ho capito da Chrome Ce la faremo Io qua non lo vedo Vediamo un po' Questo cazzo Sta la lente di merda Dove è Uno commenta in chat Come fai E conosce tutte Ste cazzate Di TikTok Conta che io Lo uso pochissimo Però ogni volta Che vedo Per me Una miniera d'oro Infatti per questo Me ne tengo alla larga Eh ragazzi Comunque TikTok È un nostro strumento Come lo usi Dieci minuti Trovi Quattro Cinque perle Sì Comunque Eccolo L'avevo già aperto Infatti Allora ragazzi Tanto un piccolo segui Ma sì Che non costa nulla Vabbè Pupo al secchione Ok Parente di Francesco Ma quanti anni C'ha adesso Secondo me Eh Cioè secondo me Che cosa Vuol dire Ma quanti Ma quanti anni C'ha adesso Secondo me Come domanda Se non lo sai Credo Sessanta Sì Vabbè Sessanta Regà Sta una bomba Ma no Se va verso i sessanta Complimenti Porca troia Regà Sta una bomba Cinquantotto anni Ma davvero Sta al top Lì mortacci Secondo me C'ha avuto la classica Crisi di mezza età Quando comincia A palestratte a stecca Perché senti Il testa invecchia Sì Poi lui Quando ce ne arriva a trenta Ne dimostrava tipo quindici Non so come faceva Era proprio super giovanile Grazie Giulietta Sembrava sempre Più piccolo Comunque Quindi Gli è rimasta sta cosa No no Però Cazzo Mò veramente Quasi sessant'anni Sembra Trentasettenne Sì Si manco quarant'anni Guarda Sti sorrisi plastici Sta una bomba Poi lui Lui comunque era Lui era Più tondo Da ragazzo Mò si è dimagrito Ma poi pure sta cosa Cos'è Era più tondeggiante Sì sì Mò si è dimagrito C'ha una bella pelle Un bel capello Ma rimette quello De prima del piede Perché Sì L'ulte è Il video col cane Ah il video Ok Sta cosa di tenere il piede Flexato in quella posizione Naturale che lo devi tenere È molto femmineo Questo atto Perché è la forma Del piede da foto Da modello Perché se lo tieni sciolto È brutto Bravo Cioè capito Se lo tieni così È teso Cioè è come È come fa il muscolo Sì è flessato È come se fai così Capito L'uomo non è un codice moderno È un codice Che risale tipo A fine anni 80 Inizio anni 90 Quando andava de moda Per gli uomini un po' famosi Farsi la foto un po' a new age Tipo col pantalone del lino O la ciabatta L'infratito Quella etnica O il piede nudo Tipo Biagio Antonacci Bravo Ho fatto la stessa cosa Il modello De queste cose È palesemente Biagio Antonacci Ti dai un tono Sembravi un po' più intellettuale Col piede nudo In contatto con te stessi Sì capito Esatto Esatto No capito Lui ha capito Come funzionano le cose Nel mondo moderno Ormai Ogni amici Se nevica E poi è una gimmick Pure questo Sì ovvio Ogni amici Sono Il cane è bellissimo È bello sì Bello È un po' così Guardalo Con l'elefante Camisetta bianca Bellissimo Pantalone di lino Sì 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 Ma è molto mood Diciamo Europeo Che gioca a fare L'indianeggiante L'elegante Non dimentica mai Ah beh È vero Dobbiamo leggere le caption La memoria di Ferro Che vuol dire Esatto Ah c'è anche l'elefante Non dimentica mai La memoria L'elefante L'elegante Giusto È meglio fare qualcosa In modo imperfetto Che non fare niente In modo perfetto Bravo Mentre non fa un cazzo In palestra Ma secondo voi È il suo appartamento? No Secondo me stavo a qualche risorto In vacanza Perché stanno le palme dietro Eh ma magari vive No? Se fosse Buon per lui C'è da capire Che cos'è? Che stai con sto sorriso Blast Eh perché è brutto tempo E tocca il capello Lo tocca E poi dopo Mette via la mano È tipo elettrico Se tocca i capelli Poi vedi C'ha braccialettini Collanine Stile È proprio il ritorno Del new age Sì sì New age Ma Ah qua con Con tablet Tutto zozzo Ma questo Valedemente è impolverato Ha preso dalla cantina No perché quello è il retro Che è fatto tipo in vellutino Quindi se lo tocchi La scelta Grazie per la sub La capacità di provare Ancora stupore È essenziale Nel processo Della creatività Ste frasi vuote Pure sta cosa Che noi siamo Uno Ho letto il commento Bro la tua inespressività Nei post è leggenda Perché noi siamo abituati A vederlo totalmente diverso Eh sì Che ride Così è più sigma dai Così Eh sì esatto Però sappiamo che è una gimmick Cioè come posso dire Certo Che c'è scritto lì Sì Menti aperte Porte aperte Boh l'ho letta Mi piaceva Vabbè Ci sta Aspetta Guarda nell'occhiale Oddio Oddio Aspetta Lui è plastico Così ma nell'occhiale Ah no Quella mi sa che Beh mi sa che L'ombra è l'occhiale Pensavo che è l'ombra Del selfie stick C'è una ciparite Quindi è lui che stava tutto fermo Però che c'è il selfie stick È l'asta dell'occhiale Perché si chiudono Così presto Il dito in bocca Quando preparo un programma tv Non dimentico mai Di essere anche io Un telespettatore come voi È bravo Vabbè Così se fa È giusto Ah mi rilasso Manca rilasso Tutto teso Io lo amo Ancora più creepy Ragazzi c'è una quantità di materiale Sto profilo è oro Dobbiamo arrivare a quella Che mi ricordo io Perché è questa una Che è quasi nudo Quale è la shit qui? Pensa Credi Sogna E osa Come diceva Candy Ma qua che è No questa non va bene Questa non mi piace Perché bravo Pure io ho avuto la stessa reazione Perché è un filtro Che non matcha Con tutto il resto del profilo No questa via Ok Classico pop e male L'hai buttato sì Poste per la mamma Disegno della mamma Ah non era così lei Ascella Quello era il disegno Non era la foto Era una foto No no è il disegno È molto realistico Una scellina Vabbè Questa è chieste Sfogliata all'istante Sempre più nudo Qualche voleva fare Tipo capito Il tiktoker No con i cambi Di inquadratura Esatto Tagli veloci Però un po' orribile Non è un taglio Lui semplicemente Ha mosso l'inquadratura L'ha tolto Da quella interna A quella esterna In quel momento Si è tolto velocemente La maglietta E clamorò Ma ora sei te Tra vent'anni A parte che sono tutti Tra vent'anni Cioè però Lo ripeto Arrivò tra vent'anni Così Ma stai scherzare Ancora meglio Del gigetto fisichetto Sì a voi Ma regà Ma è stata scherzare Ma magari Io veramente Firmo subito Sta una bomba Cioè Ancora un po' Te prego Ah questo pure Guarda guarda Oddio Che fa Questo è un po' sexy Qua che fia Ma poi sta sempre in giro In posti meravigliosi Ma poi la maglia Appoggiata addosso Si vuol dire Che se l'è tolta Proprio Per fare quel tiktok Capite Ma mi viene da pensare Ma sta sempre da solo Questo è da dire Cioè spero di no No Dai magari Non vuole condividere La sua famiglia Magari è solo una cosa Del suo profilo Che non fa parire Nessun altro Però per dipingersi Virtualmente single Per le signore Che guardano C'è un po' sta cosa Vero 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 Sì Beh quanto vorrei Farmi un viaggio In Nicaragua Assieme a lui Insieme a lui E viaggio antonaci Vicali molto belli questi Lo stesso di prima Però Non scuote la testa Perché non è Nuvoloso Stare bene da soli Secondo me Perché ho letto Una cosa in chat Cioè è diverso Da non avere nessuno Capito Certo Certo L'unico altro essere vivente Che ora è apparso Vabbè La conosciamo molto bene Oddio Caputo Capito Pure Non parla mai Pure questo Noi siamo abituati Che è una mitraglietta Che sta là Invece qua Non spicci Infatti Al di là delle risate Cioè riflettiamo Riflettiamo A parte che fa riderissimo Il profilo Però perché Perché fa rider Perché È in Completa È in completo contrasto Con l'immagine Che abbiamo noi Di Enrico Papi Cioè è un profilo Classico di un boomer No Su facebook Che li vedi Che se fanno magari La foto con l'occhialetto La gimmick La magliettina E vedi che sono Forzati Non sanno usare bene I social Proprio la classica Fizione del boomerone Però in realtà È un personaggio Che noi conosciamo Sotto altre vesti In tv Tutto carico Sorridente Una mitraglietta Come diceva Simone E qui Sembra invece Quasi una specie Di Terminator Cringe Con questo occhialetto Capito Con questo sorriso Robotico Non sembra umano Non so come dirvi Io quando l'ho visto Ci ho letto pure Un'altra cosa Anche un po' Sempre Sui discorsi Che facciano Sua reputazione Sulla percezione Altrui No Lui è sempre stato visto Come il simpaticone Iper macchiettistico E se è sempre posto così E secondo me In questa fase Della sua vita Lui si è accorto E comunque Va verso la tarda età Però se visto ancora Potrò risultare Scopante Esatto Cioè voglio dipingermi Per una volta Nella mia vita Sexy Vediamo un po' Se io la faccio Secondo me Una cipa dei signore Gli avranno scritto Un DM Sono d'accordissimo Anche perché Abbiamo parlato Più volte Della distinzione Tra comico scopante E non scopante Esatto Enrico Papi Fa parte Della categoria Faceva Forse dovremmo dire Parte della categoria Comico non scopante Quindi molto macchietta Stile fantozzi Anche per sua scelta personale È sempre stato iper Non simpaticone Però non è mai stato Un brutto uomo Infatti poi Il fatto di essere Scopante o meno In realtà Non riguarda la bellezza Perché Anche un checco zalone Fa parte Dei comici scopanti Pur essendo Abbastanza orribile Da come ti poni Esatto È proprio come Come ti disegno Ieri Al Lupus Ti ho detto quella cosa Che è stato querelato Dalla tizia E l'ho visto In questo video Di Billy Foster Chiamato uno dei momenti Più imbarazzanti Della tv italiana E ce ne stanno diversi In realtà De Enrico Papi Dei momenti imbarazzanti Sono una cosa Scusate Ma non ha una moglie Stiamo parlando Di definizioni cinematografiche Cioè Sentirsi desiderabile Cioè Non vuol dire scopaggine Non vuol dire essere Io ho detto Non scopante Magari la gente Pensa che abbia detto Che non scopa No Non quello Il personaggio Una volta una vita No Ma magari scopa tutti i giorni Però dico Il personaggio Enrico Papi Per come lo abbiamo conosciuto In tv Fa parte di quella categoria lì Ok In quel caso Per scopante Non si intende Uno che scopa Non si intende più È come se significasse Scopabile È quella la cosa Poi c'è quella definizione là Perché qualcuno Lo sa da prima Però sì La definizione è come per dire Sei desiderabile Dalle donne o meno Sì sì Però è nell'ambito Diciamo della fiction Questo intendo Cioè il personaggio Ad esempio Che ne so Bombolo Ok Non l'attore È Fantozzi Ok Non Enrico Villaggio Non te l'immaginavi che sta a scopare Sicuramente Paolo Villaggio Porco due Scopava come un assassino Ai tempi Perché era iper famoso Comunque era una persona di carisma Però non te lo immaginavi Nella situazione sessuale Bravissimo È una distinzione Cematografica Non reale Vai Questo era il mondo De Sarabanda Con te anche se da casa Prendo gli insulti Ma queste cose Nella mia trasmissione Non si fanno Qualcosa però Di dubbio gusto L'avrebbe fatta anche Il nostro Enrico Papi Solo una Sbagliata Questa era ancora prima Madonna Sembra molto più vecchio Di adesso Sì Ma sembra Malgioglio Era all'inizio Ma è assurdo Sembra il padre Il padre di Malgioglio E qui faceva Il rompiscatole Ai VIP A ricordare tale scempio Perché Enrico Papi Io voglio ricordarlo Quando nei primi anni 90 Andava in giro A molestare i VIP Come paparazzo Con basettone Alla Elvis Presley Ed occhialini All'Harry Potter Ben prima del famoso maghetto Per sentirsi spesso dire Ma perché non tu fanno Pochi fatti Ma non puoi Il suo mestiere Non puoi Ce l'ha nel DNA Scusa Parliamo di Nino D'Angelo No Sor Papi Nessun Nino D'Angelo Che cazzo di personaggio era Allora Capito Strano Rompicoglioni C'era pure questo format Chiamato Papi Razzo Eh quello era Bellissimo Bellissimo Quello era E' stata fatta anche nel 2001 Durante il festival di Sanremo Di quell'anno Chiamato ad affiancare La divina Raffaella Carrà Durante la seconda puntata Del dopo festival Riuscì a mettersi contro Tutta la parte Meridionale italica Perculando senza problemi Una simpatica Professoressa Di nome Carmelina D'Antuono Mi mando Nel suo marcato accento Della regione Dell'Anduia Ma senti Carmeluzza Io sono Carmelina D'Antuono Eh beh che ti devo parlare in lingua Ti devo parlare Ecco Parlando non me capiva Ecco Siamo collegate da Sanremo Madonna che faccia Si l'hai già tricherata Porca troia Mamma mia Siamo collegate da Sanremo Ma dove passeggia Carmelina Se andava in giro tutta questa Siamo qui nella scuola Cristoforo Colombo di Buenos Aires Tanto il fatto di quella giuria Non conta Questo fare un po' irriverente del Sor Papi Non avrebbe contato Granché per la sua carriera Per chi sarebbe comunque riuscito A condurre svariati programmi di successo Forse anche grazie alla vicinanza Poi Non mi ricordo quando lo dice nel video Ma la professoressa lo ha querelato E ha vinto Per diffamazione Madonna mia Che accollo Ma non solo per la roba dell'accento Dai Secondo me basta Dici ma che cazzo di diffamazione è però Perché Secondo me eh Se fossi l'avvocato della signora Direi che Ha leso la sua immagine Dipingendola come una persona ignorante Quale non è Poi parlava uguale Quando ha preso il microfono Si vede che la signora Si sforza di parlare italiano Minimo Però risulta comunque uguale a lui Identica Ah lo dice a fine video Insomma Se tu ti stacchi non senti la differenza E guardate qui Una cosa che ho notato La teoria del complotto Con Costanzo Una cosa del genere Qui c'è Costanzo Che lo trascina Nella sua trasmissione E sentite Guardate innanzitutto Come gli altri Si interfacciano con Papi E cosa dice Papi Una cosa in realtà Fattuale Cioè Ve sto sul cazzo a tutti Guardate come Di uno dei più grandi Luminari Che lo stivale italico Abbia avuto Ovvero Maurizio Costanzo Con cui riuscirà a condurre Buona domenica Apprendendo tutte le tecniche Di sopravvivenza Convivialità Per cortesia Come va? Tutto bene? Lippi? Sta bene? Lippi sta bene? Lavorenti pure Contenti di vedere Siamo molto felici Della presenza di Lopez Contenti di vedermi Sì Immagino Un po' in imbarazzo Perché secondo me Ai tempi Specie per come era Quello che faceva Ci metterei la mano sul fuoco Che stava sul cazzo Un po' Ai colleghi Complimenti Con questo uomo Baffuto di nome Massimo Lopez Condurrà invece Un'altra trasmissione Matricole e Meteore Programma che come format Avrebbe avuto quello Di far vedere i VIP Nelle loro fasi embrionali Con provini E prime apparizioni E ovviamente Avremo visto anche Le meteore Simona Sabina Diamanti Bravo Ho confuso Con Sabrina Diamanti Che potrebbe essere La prossima Simona Ventura Potrebbe Sarà Sarà Lo è Che è sta cosa Sabrina Ventura Dubitare Bello sto format Personaggi da grandi successi Estemporani Spariti poi Nel nulla E avremmo Voi ricordate Il canguro Come no Il canguro Tanto trash E così Farsi sentire Amato E considerato È vero Potiamo comprare St'outfit E c'ha pure I baffetti Io sono il canguro E ti ringrazio Un gesto che lui vorrebbe Davvero fare a tutti E qualcuno Devo dire Erroneamente Spendo pochi secondi Ha pensato Di identificare Nel canguro Massimo Lopez Enrico Papi Si sarebbe invece Identificato In gran simpaticone Quando in una puntata Di codesto programma Ovvero Matricole E meteore Presenterà una band Che negli anni 80 Avrebbe avuto Un successo clamoroso Con un brano Che tutti voi Probabilmente Conoscono You Spin Me Round La band Si chiama Dead or Alive E viene fatta Esibire nel programma Il suo frontman Si chiama Pete Burns Una gran voce Che frontman L'avevamo vista Sta clip Di frontman Penso Almeno di quell'epoca Avevamo vista Sta clip Gramorosa L'avevamo vista Sì sì Solo questa clip Mettila Mettila Io appena ti ho visto Insomma già All'epoca Insomma Avevi una bella Fonatura di capelli Insomma Un bel Bel tipo Diciamo Ma Chi ti concia In questo modo Cioè da solo Non è proprio Veramente Come Che coraggio hai Pete risponderà Indicandoli Che assurdo Che coraggio hai E quello Sarebbe stato Il coraggio Dell'autoespressione Senza vincoli E costrutti sociali E Papi Ribadirà Ah la chiamiamo Autoespressione No è giusto È giusto E qui vediamo Un piacente Carlo Conti Osservate Che grande Ci ha dato un esempio Insomma Come nella lingua italiana Si definisce Certo Perché guarda Anche dall'estero Guarda quanto è allibito Perché guarda Dalla Calabria Madonna Ad espressione Si chiama E Carlo Conti qua Ci credo a quello Che dice Billy Cioè lo guarda Allibito Come che cazzo Stai facendo Allibito tale Poca professionalità Di Papi Ricordando di quante battute Avrebbe ricevuto Sul suo poco Candido colore Della pelle Rimuginando Che quando sarebbe Diventato Re del Wakanda Divenendo Il Black Panther Italian Rimani sul pezzo Billy Anni 90 Frutto di discriminazione Sull'ambiguità sessuale Hai un diciamo Un volto molto Femminile Molto diciamo Così delicato Mentre sotto Sei un macio Sei un Macio e micio Ecco diciamo Che vita avrebbe risposto Macio e micio Ma che bellezza Posso come tanti Personaggi attuali Che si proclamano Beniamini Della diversità Non hanno mai fatto E non mi voglio In realtà definire In un modo specifico Non credo che La gente debba vivere Con un'etichetta Appiccicata addosso Come se rimarcare Al mondo Di sentirsi qualcosa In particolare Di identificarsi In qualcosa Di profondamente Suggettivo Possa davvero Cambiare il mondo C'è che si identifica Perché è un boomer È un boomeraccio Qua c'è la parte finale Aiute dal bel Enrico Perché come diceva un signore Di cui adesso Non mi ricordo Precisamente Il nome Ai belli Si perdona tutto Vuole dare una pizza Qui sul collo Poi c'è la scuola Di grado fluido Capito? Ma Enrico Fabio Si Poi Pittenza è morto Capito? È andato in bancarotta Per le numerose operazioni Di chirurgia estetica Che è una malattia Eh si È una dipendenza Spesso Beh si Solitamente so Dismorfofobia Problemi di questo tipo Ed è morto nel 2006 57 anni Eh Denunciate di voi Per diffamazione 10.000 euro Ma meglio di niente Ha vinto la causa Dico perché Quello che è Dico Ah Il pura giudice Sì perché dai Comunque è vero Parecchio odiato Invece Secondo me Ci ha sempre Capito tutto A livello di Intrattenitore Di Circenze Del Del divertimento Sì Ma soprattutto Quando gravi personaggi In quel contesto Trash Perché comunque Soprattutto Mediaset Era proprio una televisione Gigatrash Inizi anni 2000 Fino anni 90 Era proprio Una roba Assurda Cioè lui galleggiava Questa è Mastrota Sì Lui galleggiava Perfettamente Lì Secondo me E io Veramente Lo vorrei Come presentatore Di Bosca Enrico Ma però C'è anche a C'è penso Stellare Cioè magari Stellare per noi Per noi Magari sì Per presentare Un'intera serata 40 50k Vabbè ma io Penso che Cioè Loro donerebbero Volentieri Penso che sì Però se pensate Penso a Inet Stevens Potrebbe stato complicato Anche facce due chiacchiere Ma secondo me È meno complicato Papi Anche perché Lo sai che Inet Stevens È andata da Da Quertizio Da chi? Da 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 bicio Finalmente Si è chiuso il cerchio Perché Mi sbaglio sempre Con l'altro X Surry X Murray X Murray 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 Fanto S'ha regalato Un abbonamento A Enrico Papi In che senso È andata da X Murray Inet Guarda Metti su YouTube Metti Inet Stevens Ah più del Cerbero Ma noi non siamo YouTuber Noi siamo Dei Kings Dei Trendsetters Però lui è Ciao ragazzi E benvenuti In questo nuovo Video Bentornati In una nuova Settima Di San Valenio Cioè Noi l'avremmo messa Su un altare Un momento Altissimo Vabbè Ovvio Cringiatissima Oh no In base Oltre all'aspetto fisico Sei pronta La loro scheda L'abbiamo preparato Per ognuno di loro Un avvio E tu Proprio come su Tinder Dovrai dirmi Se swipe a sinistra Che dovrebbe essere Il sì Non mi ricordo Non ho mai usato Tinder Vi dico la verità O no Verso l'estero Quindi mi direi Solamente sì Però nei suoi occhi C'è il cringe Comunque Raga Se può fare un commento Sessista Vai 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 Pazza che fregno Porca troia Vabbè Ned Stevens Se può dire No no Murri Ah Murri Sì Un po' sessista Ti dirò Ma poi ma ci mette Amici sua Ok ma ci stanno Ok Vabbè Vedi quali altri Youtuber Lei bomberebbe O passerebbe Vediamo un po' È molto interessante Tributiamo No 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 20 minuti 20 minuti De X Murri Lo fa quasi nessuno Allora torniamo Enrico Papio Io voglio arrivare Alla fine Di questo profilo Raga Questa ragazza Che vedi qua Con lui Col cappello rosa Credo sia La figlia Eh Bella ragazza Sembra un po' età Madonna mia Ah vedi È sposato Da 25 anni Però vabbè Secondo me Loro sono poliamorosi Palese Io c'ho anche un ricordo C'ho un ricordo Che stavo in macchina Con i miei Era una domenica Stavamo passando E c'era tutta gente E guardai E chiesi Da bambino Mi ricordo Ma che è E loro guardavano Ah vedi Quella Si sta a sposare Enrico Papi Madonna Quindi ho visto Da lontanissimo Il matrimonio Di Enrico Papi Abbiamo appena Sbloccato un ricordo Sì Assurdo Assurdo Pensate in coincidenza Di 30 anni Dopo a parlare È assurdo Tutto ritorno La vita è proprio strana A volte Oddio Che cos'era Non so che cazzo Ho fatto È successo qualcosa Di strano Però ho visto Un post su Berlusconi Aspetta Abbiamo questo E post su Berlusconi Che li vuoi zompare No 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 Ah Roma Col bacetto Roma Lui è romano Comunque Eh sì Questa stefa Sistema i capelli Cioè Ma poi si Quella è clamorosa Ma poi si Sistema Cioè Fa solo così So tipo No, no Qua è Roma Qua sì, qua sì Se vedete bene nello specchio Se vede il culo del culo Se avete fatto caso, regà, è tipo Profondo Rosso Se vede il culo Però aspetta, ve lo faccio rivedere velocissimo Ci siete? Pure voi in chat Ma sei serio? 3, 2, 1 E' andato, regà Non so se avete visto, però è andato Vabbè poi sta parte davanti all'Arena di Verona Per il solito giochetto Un grande uomo, un grande imprenditore Un grande politico Mi hai cambiato la vita e mi hai permesso di essere oggi quello che sono Dal suo punto di vista è così L'affetto e la stima Incalcolabili come il dolore che provo in questo momento Ti ho voluto bene L'uomo che veramente gli ha cambiato la vita Gli ha permesso di essere qualcuno Gli ha realizzato tutti i sogni Tipo un padre putativo Un sacco di gente come Papi Cioè c'è questo tipo di riconoscenza per Silvio Pensate pure a un Bonolis Cioè Bonolis grazie a TV di Mediaset E' proprio diventata una superstar Magari in un altro caso Avrebbe avuto un destino diverso Ma lui è forte De fatto Ha avuto talmente tante aziende Che hanno sfornato ovviamente Tanti personaggi Eccolo E' un matrimonio Regà, palesemente sembra più giovane adesso C'è un'altra dopo interessante No, vabbè questo è bellissimo Non mi vergogno Mi vengono frasi sul giorno del compleanno Toccatina La potevi non postare Vabbè la postata Macchina sportiva I adore simple pleasures Beh, si sa Macchina decappottabile Certo E' un piacere semplice Il primo commento dice Non so se è proprio Il più disagio per il video in sé Peraltro uguale E' privo di contenuti come altri O ai disagiati che commentano Di spostare l'asciugamano O robe simili Quindi ci avrà pure quelli arrapati Ma anche gay secondo voi Ma ovvio E' un bel pomo Certo, certo Qua stavo cicciomorrino Non so anche che mia occasione era Che bello Ma ricicla i video Ma ricicla i video Il rioffo del copyright ragazzi Vabbè Vabbè la madre Golf Sì Vabbè che va a giocare a golf Ma è una Pantegana È una Pantegana Sì sì Ma che dà una botta al topo No Farebbe rire Topo in buca Eh Intanto il cane studia golf Ah perché il cane studia golf Sì sì Eeeh King Eh Qua anche una cosa nuova Se ci fate caso Basta Sempre le stesse canzoni Boomers Oddio Guardala tutto col contrasto a 2000 Per far risaltare i muscoli Guarda Guarda Quella sotto E va bene Tutto questo capelletto Che sta giusta Ok Guarda qua Tor Con quelle luci Che dice qua Good morning Mi preparo Mi preparo Questa volta si ha aggiustato A vedere i capelli Ma Guarda Guarda Con le gambette A cavallare Ma basta Solo così A qualcuno ti piacerà pure Capito Sì sì Vabbè raga Cioè nel senso Io sto a sti livelli Più o meno Non è che i miei contenuti Siano molto diversi Su Instagram No Mister Maglietta A bagnare No vabbè È clamoroso Cioè io sto imparando In questo momento È tipo un corso d'aggiornamento Per poter Apprire così nuove tecniche Bellissimo Bellissimo Comunque Tornando a noi Ah pure questa Secondo me merita Sì Guardate che bellezza Guarda All'orizzonte Ah vabbè Qua c'avevamo altre notizie Sul dengue Ma ormai siamo andati oltre Niente Vari gruppi Telegram Non mi ricordo neanche Chi me l'ha mandato Chi è che sta su Geopolitical News 2424 Forse Daniele Marra Aumentano i casi di dengue in Italia Gli esperti Agire ora E vabbè L'avevamo visto E c'era un'altra cosa Eccolo A Brescia Ha registrato Un caso sospetto di dengue Nella notte Effettuata La disinfestazione Quindi Stanno a fare tutte Queste disinfestazioni Da zanzare Meglio così Ah Ecco che vi devo Far vedere Ho trovato Il conoscitole cinese Il conoscitole No Siete pronti Regà Ah regà Porco due Ah regà Secondo me Se deve rasare la testa Ah regà Rasato È lui Sì sì Ciao ragazzi Sono conoscitole Ah 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 Perché le persone della Cina Stanno attivano Tant'avano tanto Molto rispetto Mao Che ora Non è vero Per sincero Io attivano Molto rispetto Mao Ma anche se Soprattutto Che ha fatto Un grande errore Nel fine Di vita Ma Non è vero Non è vero La contribuzione Che ha già Abbiamo fatto Per Cina Non puoi nominare Un'altra Persona Ma Dove l'ho trovato Me l'hanno mandato Regà Cioè io comunque Cerco di leggere Vari messaggi Tag su TikTok A volte Mi taggate Su certe perle Ciao a tutti Ciao a tutti Ragazzi Sono conoscitore Italiano Vabbè Prova a doppiarlo Prova a doppiarlo Aspetta Aspetta Questa è l'impresa Titanica È tosta È tosta Buonasera A tutti Ragazzi Sono conoscitore Cinese E oggi Sono in macchina Per portarvi In giro Per Chinatown Di Garbatera Vabbè Veramente Questa Pover Nine Taut No bellissimo Ci ho provato Bravoso Perché sei riuscito A fare comunque Le intonazioni Di Leandro Con la voce Bravoso Una via di mezzo Bellissimo 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 Oddio mio Raga Let's go Cos'è questo Che è a sciare Devi andarci In Un altro fake podcast Devo dire che Spuntano Spuntano come funghi Però questa è coperta Vedi Già Diverso Già sembra più una persona reale Lei Sì Sì Infatti Mi ha colpito Devo dire A sciare devi andarci In elicottero Anziché in macchina Come fanno quasi tutti Io me lo posso permettere Chi me lo fa fare Di alzarmi alle 5 del mattino Farmi 2 o 3 ore di auto Fare la fila Parcheggiare Pagare il parcheggio Fare la fila Per prendere lo ski pass Salire fino in cima Ho un amico Che è pilota Lo chiamo Prenotiamo l'elicottero Chiaramente non vado da solo Andiamo con gli amici Quindi ci condividiamo l'elicottero Passiamo una giornata intera Partiamo al mattino alle 8 Alle 8 praticamente e mezza 8.45 Siamo già sulle piste da sci L'elicottero lo lasciamo Sulle piste da sci Alla sera Lo riprendiamo E palanche Che genere Quindi dico Se me lo posso permettere Di spendere 4, 5, 6, 7 mila euro Per una giornata di sci Che alla gente Cosa frega Se io vado in elicottero Se vado in macchina a sciare Sai cosa frega Frega Che facendo Che raccontando questa storiella Dai Una percezione di ricchezza Che incuriosisce I boccaloni che te seguono Ma come sarà diventato così ricco Allora questo ci capisce Devo seguire i suoi consigli Per dio Comunque ormai 4, 5, 6, 7 mila euro Che è quasi il doppio Di quanto è partito Da che range Ininfluente Capito E se ci fai caso Ormai è una gara A chi la spara più grossa Sì sì Veramente Donne e soldi La vediamo Poi se ci fate caso I comuni denominatori sono Vabbè Quelli base Cioè quindi Spesso Microfono non utilizzato Non è veramente Una Un'intervista C'è una donna Molto carina Che fa domande scontate Risposte da Fake sigma Però Nei temi Allora dei soldi Ovviamente Cioè i soldi Sono il cavallo di battaglia C'è sempre Donne Con opinioni Scopiazzate Da Andrew Tate Et similia Holy fans Tipo Se tua figlia Aprisse un profilo Holy fans Sempre le stesse cazzate No Ma una donna Secondo te Deve farsi offrire Sempre le stesse cazzate Poi Dubai Donne e soldi I tuoi guadagni Quante ragazze Ti girano ottono Da quando fai lo scalper Ma allora Ti dico Scalper Cosa fa Lo scalper È la stessa cosa Che proponeva anima Scalper Per loro Per loro Per loro Sì Faceva come i nativi Americani Come si chiamava L'ultimo corso Che abbiamo visto Nell'anima gate Due tipo Gold scalper Gold scalper Lui fa lo scalper Io pure faccio lo scalper Trova delle vene d'oro Con lo scappello Valla che si mette Bravo Madonna mia Anche Vabbè Sì trading Trading ovviamente Ah ok A guadagnare più della media Ma non tanto guadagnare A far vedere Che guadagli più della media Non è soltanto Una questione di ragazze Ma una questione di persone Che ti girano intorno La maggior parte Delle persone Che ti si avvicinano Dopo che vedono I tuoi risultati Purtroppo si avvicinano Sempre con un secondo fine Quindi io cerco I termi stretti Tutte quelle persone Che c'erano Già prima del successo Già prima di guadagnare di più Già prima di più Sì diciamo che adesso Sì diciamo che adesso Scalper è diventata Una nuova Keyword Perché? Perché trading Si è inflazionata E scalper Non ancora Quindi Quindi Il fatto è che Si devono continuamente Cambiare Perché altrimenti Non finisci Nei primi posti Durante Magari le ricerche La gente comincia A diffidare Di alcuni termini No però Il crypto no Crypto guru Il trading no Però magari Vede la novità Scalper E quindi Magari Prendi nuovo pubblico Si definisce scalping Nell'ambito del trading online L'apertura e la chiusura Di posizioni Su vari prodotti Grazie 5 sub Grazie Grazie mille Grazie Manu Top E quindi Che devi fare Cioè l'apertura e la chiusura Di posizioni Su vari prodotti finanziari Speculazione finanziaria Azioni e forex In un brevissimo Arco temporale Dell'ordine di qualche minuto È come È come il trading Però C'ha delle tempistiche diverse Più veloce Sì più veloce Più veloce Lo scalping Non si deve confondere Con il day trading Che riguarda operazioni Con un orizzonte Temporale giornaliero Esatto Qua nell'ordine dei minuti Lo scalping È un'attività Altamente speculativa Solitamente i guadagni Sono di pochi punti base E per questo Non si usano Commissioni percentuali Ma fisse Fino a 3 euro Oh grazie Grazie Manu Altre 10 Grazie Manu Ma sei primo Mi sa Ah no Perché l'ho visto Metti un po' la classifica Perché l'ho visto sopra 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 Bravo Sì King King Ah perché si sono Resettate Certo Si sono aggiornate Top Quindi se uno ne dona 20 Ma anche 16 Volendo Si e poi con quei soldi Faremo un po' di gold Scalping con anima Ovviamente Nel suo sistema De trading Come abbiamo detto Per prima Dobbiamo fare Dei miglioramenti Allo studio Nuovi microfoni Nuove luci Ci servono Non ci servono No no Onestamente Stiamo valutando Belle opzioni E probabilmente Dopo questa live Faremo già Un power up Dei microfoni Ma vorremmo Cambiare anche un po' Lo studio Insomma Quindi Una bella rinfrescata Quello che può mandarci Mandaci tutto Quello che puoi Le cosone Insomma Robbe nuove Divani nuovi Sedie A stecca Ma quando c'è Però particola Allora Umbertone Allora Stiamo lavorando Su varie piste Non cambiamo lo studio Cambiamo l'arredamento Cioè La disposizione Delle cose E cambiamo Magari Il tavolo Però La stanza Rimane questa Però Grazie Manu Grazie mille Metterete una macchina Per fare i gelati Però magari Cambiamo il colore Delle pareti Non sarà più celeste Capito Chissà come sarà Chi lo sa Ma soprattutto Se ci pensi È lo stesso Discorso Dell'inizio Live Grazie mille Tavernello Cioè In realtà Per loro Sarà un nuovo studio È quello che abbiamo detto All'inizio Cioè Se l'effetto In camera Sarà completamente diverso Per loro Sarà un nuovo spazio Anche se L'indirizzo È sempre lo stesso Fisicamente Siamo sempre qua Ma non sarà così Per il cinema Capite Ora stanno a dire No l'acquario No all'inizio Era che merda Eh vabbè Ovvio Ovvio Prima era lo studio Dentistico Bravo Il nuovo studio Sarà una merda Per tutti Cioè il nuovo volto Dello studio Sarà una merda Per tutti Ovviamente Ma com'è giusto Che sia Per quanto riguarda i party Stiamo lavorando Anche su quelli Assolutamente Vi aggiorneremo Ci abbiamo una data Probabile A maggio Dico bene Sono un architetto Mi offro Mi offro per aggiustare Questo porcile Porcile Se è veramente un architetto Contattaci alla mail C'è il brand Adesso non è più studio Dentistico È studio dei tatuaggi Servire proprio le cose Tipo quelli Stanno i tatuatori Anche Boscar Dobbiamo capire Forse dicembre O gennaio Stiamo pensando anche Di fare una roba Boscar Party Dal vivo Vediamo Vediamo Comunque noi lavoriamo Una roba ibrida Oggi ho parlato Anche con una persona Questa roba Quindi insomma Noi lavoriamo Assolutamente Meglio avere una data Piuttosto che un data Beh questo è in dubbio Sì Fate la sabato Stavolta Che cosa Il party Abbiamo appositamente Scartato i posti Senza il fine settimana Perché avevamo Molte opzioni Giovedì Mercoledì Martedì Però abbiamo detto No solo weekend O venerdì O sabato Ok Simo se me la vi questa Metto al volo Se stituiste i Boscar Con un nuovo evento Talmente diverso Faremo una cosa del genere Perché comunque Siamo arrivati Al massimo Di quello che si può fare In termini di evento Dal vivo Boscar Quindi bisogna 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 No Eh no perché È proprio la cosa Volevamo fare Volevamo fare I Boscar Bus trip Porca troia Ma che è No io non volevo Fa sta merda Che hai appena detto Ma che cazzo vuol dire Bus trip Ha detto Engie Che cazzo ne sa Già Già noi Ha detto Fate un bus trip In giro per tutto il mondo Al bosso dei Boscar Viaggio in bus Dice che l'hai proposto tu Che cazzo Io non l'ho mai sentita Il bus Ah il bus Nel senso In bus Ok No il bus Quando fai il mix Capito Eh avevo capito I bus Li odio Rinomatamente Che so il bus No non parla dei bus Che so i bus Una cosa odiosa Del programma Per fare musica Veramente Dai non gliene parlare È una cosa Scusate 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 Porca miseria Scusate Scusate 24 Mentre pensavo A che fai live Mi è arrivato un messaggio Ciao Rubin C'è una sorpresa per te Da parte di Ance Di Batson Sport Potrei fare un contenuto Con Totti Ma è Loco King Quindi Rubin ha fatto Il reel Sul vocale Che gli ha mandato Poi ci sarà anche l'evento Ah poi c'è anche Totti Ok Data di oggi Io David Rubino Francesco Totti Il capitano da Roma E allora tutto emozionato Non è più il capitano Rubin Totti non è Lifetime Non esiste È il capitano Eh sì È il senatore a vita Io pure le so Per le bandiere ok Però nel senso È anche ingegneroso Grazie Manu Quanti dieci Dai E tre no È un po' ingeneroso Anche nei confronti De Pellegrini Continua sempre Totti È sempre il capitano E pare che quelli nuovi Sono Pischelli Pellegrini Quasi a fine carriera Poi chiamarlo Il capitano Almeno lui Sì A parte tutto Pensa De Rossi Capitano futuro Non è mai stato capitano Dei casi più clamorosi Nel senso A parte Vabbè Non ha fatto in tempo Essere visto Il capitano Perché poi Totti La gente pensava Sarebbe ritirato prima Invece Sono stati contemporanei Per tanto È il problema Dell'idolatria Regà Cioè Qualsiasi capitano Della Roma Sarà paragonato A Totti Ovviamente E vivrà nell'ombra Di Totti Anche quando Totti Sarà morto Probabilmente È così Però Prima di Totti C'era un altro capitano Storico Allo stesso livello Della Roma Bruno Conti Giannini Però capito Il principe Giannini È stato forse Quello più iconico Però Sta chiamando un numero Tra l'altro Mo vi dico una cosa Che Un po' me ne vergogno Ho detto una cazzata Grazie Manu Bruno Conti Pure era capitano Non so Penso sia stato Per un periodo Però Giannini Forse è stato Quello più iconico Prima Mo vi dico una cosa Che da romanista Fervente Un po' me ne vergogno Però c'è stata una cosa Che mi ha fatto Sempre troppo rite Su Totti È stato un periodo Che i laziali Per insomma Togliergli autorità Lo chiamavano Invece del capitano Il capitone Anzi De giù Ma sempre fatto rite Una cipa E il capitone Non riesco a resistere Da tagliamme Da erisate Il capitone Me lo ricordo Il capitone Fa una cipa Il capitone Mi lo ricordo Porca droga Vedi che farire Quel capitano Però è il capitone Soddisfazioni Ma ha dato I miei madre Sì sì Grandi soddisfazioni E sono andato a prendere Un reperto storico Mi sono perso un pezzo Che solo Eh Ma è che Guardata così A tradimento No ma non ho capito Perché fa Grandi soddisfazioni Ma ha dato I miei madre Sì sì Cioè È una critica Non ho capito E allora Tutto emozionato Non lo so Perché me ne sono andato Un barcone Ho festeggiato Mi fratello festeggiava Col cane Ma è più Grandi soddisfazioni Ma ha dato I miei madre Sì sì Grandi soddisfazioni E sono andato Guardate la televisione Vorella Guardate la stanca Mi fa tagliare Perché poi io penso Sempre al momento Di costruzione Di un tiktok No Quindi tu pensi Al momento In cui Sono andato in un barcone Ho festeggiato E poi c'era il fratello Diceva Ok vai Comincia a registrare E lui tipo Senza urlare Perché se no Fai casino dal barcone Che fa Oh grazie Manu Altri dieci Ma sei un kingone Manu Grazie mille Che king Si mi immagino Poi la scena Il momento che Dele brasa Rubino Sua balconata Ma la poteva firmare Comunque Chiamato il taxi Se siamo avviati Verso Ma che stava la guida Cicalone Sì 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 Ogni tanto Qua da autista Rubino Ah non lo sapevo Quando deve andare Verso termini Sono tutte e due Verso termini Visto che ci hanno Condividono la destinazione Guarda un po' Chiamato il taxi Eh sì E' lui no? Se siamo avviati Verso il punto Dove stava Francesco Ma la madre C'è ancora i quarantenni A casa Puraccia Vabbè sarà passato Questa roba Dei siti paralleli A quelle scommesse Tra l'altro è legalissimo Perché conta che C'è il senso Stai in un alveo Di legalità Perché questo Batson tra un po' Diventa pure uno dei sponsor Della serie A No no ma è Però è sempre come Quando mettevano 888.com Sulle maglie Tipo della Premier Certo Il sito di News E il modo per girare Un po' Sì Ovvio ovvio È la classica Fatta la legge Trovato in ghippo Sì sì Batson Ma che cos'è È una realtà Che mira a includere Sport di minore visibilità C'erano tanti rappresentanti Dello sport Ed io ero molto contento Fino a che Mi è sponata subito Lasagna Che non me l'aspettavo Carina come sempre Io ho io un gran bene Ma una certa Mi è sponato Di gola Era C'è Davide Carina come sempre Io voglio un gran bene Aspettavo Carina come sempre Io voglio un gran bene Gran bene No però è Questa per Rubino È intoccabile Lo so per certo Ah er di gola vero Perché è fidanzata Con un uomo molto potente Ah ecco Che ha influenza Su un'area Che a Rubino Interessa molto È quella calcistica Youtubica Quindi secondo me Non proprio neanche ci pensa Ah ok È una cosa pubblica È una cosa risaputa Sì 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 È una bella coppia È una bella coppia È una bellissima coppia Stanno bene insieme Auguro il meglio Madonna Ma però l'hai detto Con un tono funebre Capito È quella Sono stato molto credibile Poco poco Magari si lasciano Porca Madonna Ma tutti No no Tutti Tutti Mi è compreso No no Scherza ragazzo Molto bravo Sportivo Cristiano Si chiama Federico Lo seguo Federico Molto simpatico Lui è di cola No Erminico Matteone Lui Matteone Oppure Ermatteo di cola Nanni È Lazza Che non aprivano mai Perché dentro C'è stata Francesco Totti Io che aspettavo Dove stava Totti In una stanza rossa Non aprivano mai Che è dentro una giara Guarda com'è disorientato Guarda com'è Dentro una scatola Tipo hanno tenuto In quella stanza Cioè lo fanno uscire Soltanto per occasioni pubbliche Chiuso dentro una scatola Sì Era solo un bambino Aspettavo Aspettavo E Anna certa Il qua voleva scappare Dice no Fai il tuo dovere È vero Si guarda La trovi l'occasione giusta Tipo un momento Guarda la faccia Adesso tipo Guarda qua stavano andato dritto Cercando di scappare Sulla sinistra E l'hanno tipo Riprogrammato No Francesco Devi andare lì Scusami scusami Grazie Rain Accurata Scusami Ho dato un botto dei sordi Però me va Anna certa Qua riga Guardate quanto è bello Stavo tutto emozionato Capitone Mazzam È poco casino Cioè Porco due Sono stati tutti aspettatotti Per due ore Due applausetti Buttati lì No fastidio e rumori forti Perché da quando vive là dentro È Come esce Se tu È L'ultimo dei room Esatto Il tuo metro apposito Va tipo in berserchio Lui attacca Tu Sulla sulle pareti Esatto Cioè Più applausi Don Vito Sul palco dei boschi Quello che riguarda Batson Che continuo a ringraziare Per questa Finita tutta la spiegazione E la presentazione di Batson Si sono tutti riuniti E concentrati Verso Francesco Dotti Novo la giorno Anna via i giornalisti Era pure Angelo Mangiante C'erano tante persone Del mondo dello spettacolo Del mondo dello spettacolo Titano c'ha il dengue Regà Cioè quindi Tutta stambaradam È stato organizzato Da sta cosa De scommesse Esatto Per sponsorizzare Sito De scommesse Sito di news Caro Simone Però si chiama Come il sito De scommesse Si chiama I furboni Queste sono delle porcate E Totti si presta Da sempre Mi è dispiaciuto Una cifra Vede sta roba Quando ho visto Che Totti Era uno dei testimoni L'ufficiale Ho fatto Madonna Sai quanti soldi Gli avranno dato Ma i soldi Che c'ha Però ho già Capito Guardi a dire Il documentario De Hillary Ti dirò Che mi ha aperto Occhia Sul capitone Il capitone Non dovrebbe Fammi ridere così tanto E mi fa ridere una cifra Ma guarda che Comunque il divorzio Costa Gli avvocati Costano In quel caso È capibile È giustificabile Capitibile È tutta colpa Dele donne Grazie Riccardo Pure il gioco d'azzardo Sempre colpa Dele donne Di paralleli Si fa da tantissimo Tempo Iniziarono Le roba Major in premier Lo facevano Una cifra Anche leggi diverse Vabbè io mi ricordo Pure Pokestars News Pokestars News Anche Eurobet Eurobet News Si si C'era la foto C'è stava pure Blur Io non me l'aspettavo Me ne soccorto Perché mi ho mandato Un messaggio su Whatsapp Eh beh Questo va rimarcado Eh beh certo Totti ragione su tutto Non mi hai aspettato Che ci fosse lui là E stavamo Con i DNA Grandi Belli De casa Fondamentali Per la prosecuzione Della specie umana Da sempre De base De base si ce l'abbiamo tutti Ok questo da la foto Il founder De DNA Hoops E collabora Con DNA Da bomber Ciao ragazzuoli Io bene Comunque Se siamo rubati pure Qualche maglietta Non sapevamo Queste belle Diciamo le cose come stanno Le magliette sono belle No Sono magliette arancioni Ma le stai a vedere Cioè tu dovresti andare in giro A sponsorizzare sta cosa Con una maglietta De un colore Pure orribile Da rifrangente Ma non è neanche il colore Che Cioè nel senso Perché me dovrei mettere Sta maglietta Se non me pagano La maglietta Da promoter De fastweb A Roma E Bravo Sai che Il braccialetto In tinta E Tipo E il collarino Quello col badge Avete internet a casa Ecco Nel 2024 Certo che ce l'ho Certo Grazie a dimensione Esatto Molto meglio Molto meglio Dimensione Punto esclamativo Dimensione La fila La fila La fila Non terminava mai C'è stata una maria De persone C'avevo pure fame Ma alla fine Eccoci qua Stavo a dare la maglietta Mia Francesco Totti Regà Non sapevo che dì Non sapevo che fa Ma la so fatta solo Firmare Vedi che è la verità E boom Beccate pure La foto col Francesco Quindi Io ragazzoli belli Voglio ringraziare Hans E Petson Per questa opportunità Guarda che fantoccio E ci vediamo Fantootto Che fantotto Ber fantotti Eh Betson Un po' Un nome da calciatore Brasiliano Ti ho immagini Per terzino del flamengo Betson Brasiliano Io avrei detto Io avrei detto Tipo svedese Ah anche Betson Però con la O Capito Però pure I cosi C'hanno un sacco di nomi Così Betson D'Assio Ragazzi Grazie mille Per aver visto Questa live Noi ci vediamo Questa sera Alle ore 21 Con un'altra Incredibile Puntata Misteriosa Perché Kitano Non ci sarà Neppure stasera Grazie Riusciremo a arrivare vivi A lunedì Ma sempre per il dengue Pure stasera Ah sì Kitano capace che non lo rivediamo Per i prossimi tre mesi Io lo dico Raga Ma a me sei Zampironi Qua servono sub Qua servono sub Perché tocca Abbiamo un regista Abbiamo contattato Tago E Tago fa Eh fa non me la sento Perché comunque è infettato Il posto Quindi non possiamo far venire nessuno Al momento Raga E che c'è i miei zampironi A studio Prova a scrivere Ce sta Ce sta Bella Ciao Ciao Ciao